Il festival di Sanremo, gli hater, le pressioni e le critiche, i rumor sulla crisi con il marito e il periodo delicato per Fedez e la sua salute mentale. Di cose Chiara Ferragni ne ha dovute affrontare parecchie in questi ultimi mesi. E adesso invece di far parlare gli altri l'imprenditrice digitale ha deciso di raccontarsi da sola. In un lungo sfogo su Instagram. Chiara Ferragni. Ho pianto da sola. Fermarsi a respirare e a pensare. Ricordandosi che è normale avere paura. È normale chiedersi se ce la farai. È normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto. Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia. Sanremo. Ora posso ammetterlo. È stato durissima. Mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace. A dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Che poi certo odio gratuito non capisci proprio perché ti debba essere buttato addosso senza un reale motivo. Ma quello è un altro discorso. Contemporaneamente ho dovuto esserci per la mia famiglia. Provare ad essere forte per tutti. A capire come risolvere problemi più grandi di me con la paura di non farcela come moglie e anche come mamma. Perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte. Sempre. A volte ho provato anche dello sconforto trovandomi a chiedermi cosa sarebbe successo se fossi crollata anche io. Ha continuato Chiara Ferragno pianto. Da sola e con chi mi vuole bene e mi ha voluto regalare un abbraccio e una parola di conforto per aiutarmi ad essere forte per tutta la mia famiglia. Ma anche per le 60 persone che lavorano con me per cui tutti i giorni devo essere sul pezzo e tener fede agli impegni presi altrimenti restiamo tutti senza lavoro. Lo ammetto tutto questo mi ha fatto sentire tra mille fuochi. Tra tante. A volte troppe responsabilità familiari. Umane e professionali. Ma mi ha fatto trovare anche una nuova forza. Forse di persona più adulta. Certo a volte vorrei concedermi di dirmi. Chiara ci sei anche tu. Oggi puoi essere fragile. Puoi sbagliare. Puoi essere tu quella che chiede aiuto. Succederà. Lo so. Per ora è il momento di tirare dritto e provare a far funzionare le cose. Di aggiustarle senza fingere che tutto vada bene. Ma provando a farle andare bene veramente. Grazie a chi c'è anche per me. E a chi capisce che tante volte il mostrarsi forte anche quando ci si sente fragili non è una scelta ma una necessità. Vi vedo. Vi leggo e vi sono grata. Grazie a tutti.